Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tee ed oggi siamo su Five Nights at Freddy's 3. Dobbiamo fare la Nightmare Mod, attenzione, volume al massimo così da bucarmi il cervello nel caso in cui io perda, ma sappiamo che ormai la mia proagine è infinita, non mi consentirà di perdere. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Ehm, spero di non avere più quelli inconvenienti perché potrebbe diventare la situazione piuttosto grave. Video error, aspetta. FUCHI! Ciao Freddy. Lo so, non devo fare, cioè dovrei fare il rebuto al, ma non c'ho voglia, dai. Muoviti Demet. Ciao Freddy. Adesso dobbiamo aspettare che questo idiota vada fuori dalle balle. Grazie. Dov'è? Sono morto, non è vero. Probabilmente sì, visto che era fuori dall'ufficio. Era colpa di quelle bug. Allora. Game of night. Let's go! Vediamo se riusciamo a completare, a fare qualcosa di concreto in questa notte. Ok. Hello! Eccoti la Springtrap. Adesso... Hello. Go sbagliare the primer. Ho fatto il più grande errore che potevo fare, che era premere subito, mentre Springtrap era già nella stanza. Quindi, in poche parole, sono morto. Sì, sì. Sei quello che state pensando, è la verità. Sì, sì, sì. Hi! Non tornerà mai più in questa stanza. Dai, Springtrap, non essere un bastardo di merda come sempre sei stato e come sempre sarai. Cioè... Per favore. Oh, già meglio. Springtrap, torna qua in tempo reale. What the fuck is that? Audio error, più video error, più pen error. Vediamo. Vediamo. Audio, via, 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 via. Ah, eccolo qua. Ciao Springtrap. Non spostarti da qua. Motherfucker! Ecco, visto che ero in tempo di... Era a tempo di... No? Cos'è sto rumore? Mi dà fastidio un po'. No, è nell'eventore! Trova subito... È già uscito? È possibile che sia già uscito... Ciao Freddy. Hello? C'è. Qui non è. Qui non è. Che pensi di merda? Fuck da... Questo si definisce bug. Solitamente. Voglio provare a fare soltanto reboot all. Tanto per vedere se funziona, ma non so. Sembrerebbe che questo pannello sia magico, quindi... Potrebbe violentamente anche magari... Ho visto Springtrap correre. Ma... Mi può anche uccidere? Vediamo. Adesso staremo a vedere. Intanto sono le due. Springtrap si muove. Vediamo. Quante volte ho detto vediamo? Ti-tin. 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 Boh, io mi gratto, basta. Che caldo fa comunque, c'ho. Assurdo. Mi può anche uccidere. E mi è, sei più diventi. Non so. E la cosa più brutta che poteva succedere era questa. Caputana. Ciao. 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 Mi sto calmando. Ciao. 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 Fantastico. Sei un cazzone di merda. Ciao. 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 Torna qua subito. No. 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 Due di mattina Fuori dai coglioni No Per la prima volta però ho visto Mangol in questo gameplay Che è una cosa molto interessante Ho visto Mangol penzolare dal soffitto E venire a rompermi poi le palle ovviamente Come sempre perché Cioè Mangol Cioè Mangol Sappiamo basta dai Ok il matto è là Restaci anche magari Resta crocifisso là proprio Fai un piacere incredibile Video error Visto che ci siamo Reboot all 3 am Springtrap no Springtrap no Sei un cattivo springtrap Springtrap non essere cattivo con me Freddy fuori dai coglioni Che nessuno ti ama Springtrap è tornato al posto Freddy foods bear God fucking damn it Stressante sto gioco Mamma mia Ok qua inizia la discesa Verso il basso Dai Springtrap Reboot all 4 am Dai Springtrap Sono così vicino alla vittoria Quanto scommetto che è qua fuori Dai 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 Almeno non è entrato nelle ventole Appena detto magari Ciao Freddy Torna qua Ce l'ho fatta 4 5 6 Resta ci Ti prego resta qua Audio devices Via 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 più veloce di un fulmine Dai Il nostro springbrinch Attenzione ragazzi Sei cattivo un po' eh E' un po' cattivo Cioè Confermalo no? Cioè tu puoi confermarmelo Uh 5 di mattina Dai 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 Manca così poco No 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 Springtrap Non lo fare Ti prego no Dai Siamo amici alla fine No Non è vero che siamo amici No ti prego ti prego Dove sei? Dove sei? Dov'è? Non c'è Il puppet God fucking damn it Il puppet Deve sei qui? Là O Bombe Dov'è c'è Il puppet È Grazie a tutti.